So shine bright tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky, shine bright like a diamond. Comis, a Pesaro dal 1994, opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto a olio e gas grazie alla competenza del proprio staff. 100 dipendenti, con tecnici altamente qualificati. Tramite il proprio sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, Comis implementa continuamente le proprie risorse e le capacità tecnico-professionali per garantire ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzione lavori di elevata professionalità, sviluppando sistemi innovativi e a basso impatto ambientale nel settore dell'oio e gas. Comis, progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas. Comis, progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas. Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti anche a questa serata, il terzo appuntamento come amministrando e questa sera abbiamo davvero un ospite d'eccezione, l'assessore regionale Francesco Baldelli. Buonasera, buonasera a lei, un saluto a tutti gli amici di Rossini TV. Grazie assessore, siamo davvero onorati di averla in studio con noi, abbiamo insistito veramente a livello di stalker per poter averla qui con noi perché ci tenevamo davvero. È un ruolo importante il suo. Non si può dire che nasca per caso, perché la sua passione per la politica è nota veramente da tanto tempo, al punto tale che andando a studiare un po' la sua figura, ci è piaciuto questo riferimento al fatto che lei sia stato individuato a suo tempo fra i 20 universitari riconosciuti a livello nazionale più impegnati in politica. Da dove nasce questa passione? Nasce dagli anni del liceo come impegno civico a favore, diciamo, dei più deboli, ad iniziare dalla battaglia sulla sanità, la battaglia su infrastrutture più sicure per i nostri territori, che tra l'altro è una battaglia ancora attuale, significa che come giovani in quei tempi al liceo avevamo visto bene, c'era bisogno di combattere per difendere i diritti dei cittadini. Eravamo, devo dire la verità, in quegli anni molto infuocati nel difendere questo nostro territorio pesarese e abbiamo visto che negli anni o negli decenni siamo rimasti un po' indietro e adesso dobbiamo trovare quelle soluzioni che necessitano per dare un migliore stile di vita e una migliore qualità e benessere di vita ai nostri cittadini pesaresi e marchigiani. Certo, infatti l'assessore è assessore che riveste questo ruolo dal 2020, fa parte della coalizione che si è imposta alle elezioni nel 2020, il presidente Francesco Quaroli, lui e tanti altri, che comunque stanno facendo la politica dalla Regione Marche. Dieci anni sindaco di Pergola, quindi oltretutto marchigiano purosangue, Francesco Valdelli, nato ad Ancona, ma sindaco di Pergola per dieci anni. Quindi un ruolo davvero fondamentale di radicamento sul territorio e di dialogo continuo con le persone. Sì, dialogo continuo con le persone, dialogo continuo con i colleghi sindaci, soprattutto del territorio della provincia di Peso Rubino, in quel luogo e in quel periodo, ma anche grazie a quell'opportunità vicepresidente nazionale del Lanci. Quindi si acquisiscono quelle conoscenze che poi oggi risultano particolarmente utili nell'amministrazione della nostra Regione, che vorrei ricordare insieme ai colleghi, è una giunta regionale che vede tanti sindaci e tanti colleghi con esperienze amministrative importanti. Penso ad esempio al collega dell'agricoltura, che è stato un importante esponente dell'amministrazione comunale di Ascoli Piceno, pur non essendo stato né il sindaco. Quindi questa esperienza di tutti noi fa sì che si possa determinare anche un cambio di passo nelle politiche di vicinanza ai territori, di vicinanza alle comunità, di vicinanza ai sindaci. Sì, in effetti i progetti che sono stati portati avanti in questi anni li abbiamo seguiti anche noi con Rossini TV, sono tanti, molteplici, a sostegno di tantissime strutture e di tantissimi sistemi economici che reggono la nostra Regione, che ricordiamoci è una Regione davvero variegata da tutti i punti di vista. Tante le deleghe, viabilità, infrastrutture, governo del territorio, i lavori pubblici, politiche per la montagna e le aree interne. Quindi sono davvero tanti i compiti che l'assessore Baldelli deve portare avanti. E ovviamente partiamo da quelli che sono i più importanti, i più pregnanti. Per esempio, l'abbiamo detto per primo, la viabilità. Una viabilità che nella Regione Marche è problematica per tanti motivi, ma che questa amministrazione regionale, ma non solo, proprio tutto il sistema della Regione Marche politico e logistico, sta provando ad affrontare per risolvere questi problemi. Sì, questo è un grave problema della nostra Regione. Alcuni mesi fa c'è stata riconosciuta la continuità territoriale, vuol dire che la continuità aerea da Palconara quotidianamente voleranno voli e aerei verso l'aeroporto di Roma, di Napoli e di Milano. Che cosa significa? Che siamo considerati come un'isola. La continuità del territoriale viene riconosciuta alle isole, quindi in questo caso alla Sardegna e alla Sicilia, ed è stata riconosciuta anche alle Marche. Significa che siamo isolati. Questo isolamento deriva da una mancata visione infrastrutturale nella nostra Regione, dalla mancanza anche di piani infrastrutturali validi per lo sviluppo della viabilità sicura, sostenibile e competitiva con le altre Regioni e il resto d'Europa per la nostra comunità regionale. Dobbiamo porvi rimedio. Gli ultimi grandi opere che possiamo ricordare è sicuramente la quadrilatero o l'adeguamento a tre corsie nel tratto del centro-nord della nostra Regione, tra cui Pesaro dell'autostrada. Ma sono tutte decisioni adottate dal Governo nazionale, venute grazie a dei politici illuminati come il professor Mario Baldassarri, ex Vice Ministro dell'Economia e coordinatore del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica che ha voluto fortemente un'opera che ha impattato fortemente sulla nostra Regione, ma purtroppo ha impattato solo su una porzione del territorio, abbandonando poi la politica regionale a alcune province particolarmente importanti. Pesaro Urbino che è anch'essa da sempre un motore dell'economia marchigiana e le province di Ascoli Piceno e Fermo. Dobbiamo ribaltare quel modello, avere una visione complessiva, collegare le nostre quattro superstrade, partire dalla Salari, arrivando alla Fano Grosseto, passando per la strada statale 76, Ancona-Perugia, la strada statale 77, Civitanova-Foligno, la cosiddetta quadrilatero, bisogna che noi colleghiamo queste quattro grandi superstrade marchigiane, non solo con l'autostrada lungo la costa e con la strada statale 16, ma anche con una rete infrastrutturale a maglia. Significa che noi dobbiamo costruire una grande autostrada dei territori interni, lo stiamo facendo col sistema delle piede montane intervallive, da sud a nord o da nord a sud, collegando Carpegna fino a Dascoli Piceno. Così avremo riequilibrato i servizi sul nostro territorio e avremo aiutato la nostra provincia, la provincia di Peso Rubino, a diventare ancora una volta il traino dell'economia regionale, ma non solo, anche del centro Italia. I nostri imprenditori stanno subendo un gap rispetto ai loro concorrenti, determinato dalla mancata lungimiranza della politica marchigiana e poi nazionale, avendo abbandonato le infrastrutture di questa nostra regione. Dobbiamo porvi rimedio. Giustamente perché ce n'è davvero bisogno. Poi l'esempio della provincia di Peso Rubino è eclatante. In questi giorni ci ritroviamo quasi isolati dall'Umbria per il problema legato alla necessaria chiusura della Contessa per degli interventi strutturali. E anche questo è un elemento di grande preoccupazione per tutta quella parte di territorio che insiste vicino alla Contessa. Lei mi fa una provocazione molto intelligente, perché lei con questa sua sottolineatura dimostra come non solo non siamo intervenuti o la politica non è intervenuta per costruire infrastrutture moderne che ci proiettino nel terzo millennio, ma non abbiamo o la politica non ha saputo nemmeno manutentare nell'ordinario e a volte nello straordinario come stiamo facendo in questo momento le infrastrutture che ci hanno lasciato i nostri padri, molto spesso di epoca romana o infrastrutture costruite durante lo Stato Pontificio. Ricordiamo che con le infrastrutture che si è portato Civiltà nel passato si sono sviluppati i nostri centri. Nell'antichità, grazie alle strade che i romani costruivano, sulle quali ancora noi oggi passiamo, e nell'Ottocento con le ferrovie. Perché si è sviluppata la nostra costa? Perché abbiamo costruito, hanno costruito, una linea ferroviaria performante lungo la costa adriatica e lì abbiamo avuto un'antropizzazione troppo forte, a volte eccessivamente forte, rendendo invivibili alcune zone del nostro territorio. Perché? Perché poi queste infrastrutture nel tempo non sono state riequilibrate. Lei parlava della Contessa, l'unica strada in questo momento, non essendoci la Fano Grosseto, che ci collega nella provincia di Pesero, Urbino, con il Tirreno, diciamo con Gubbio, poi con Perugia e poi con la Capitale. Bene, quella strada, quando è stata costruita, non è stata più poi manutentata. Lo stato di degrado del viadotto, che oggi viene chiuso per non un riammodernamento, ma il suo abbattimento e la ricostruzione ex novo, è dovuto al fatto che c'è un'analisi sul stato di salute di quel viadotto, di quell'opera d'arte, che viene computata da 0 a 100. lo stato di degrado di quell'opera che va da 0 a 100 è 100 su 100, il che significa che quell'opera era a rischio crollo. Questo è molto grave. Significa che nei decenni passati non sono stati, come dicevamo in precedenza, fatti investimenti sulle infrastrutture di questa provincia, ma addirittura sono state abbandonate, mettendole a rischio le opere d'arte che noi avevamo. sono gallerie, penso alle gallerie del Furlo, vanno manutentate, abbiamo già chiesto 60 milioni di euro per la loro manutenzione, perché non accada come sta accadendo in quel viadotto. E poi anche su quel viadotto siamo intervenuti, come? Facendo e chiedendo a Danas di ridurre i tempi di lavorazione che erano previsti intorno ai 18 mesi, un anno e mezzo di chiusura e di tornamento dei nostri territori verso l'Umbria e verso il Lazio e verso la costa tirrenica, rendendo compatibili con le nostre esigenze per quello che era possibile i tempi di chiusura di quella infrastruttura. Da 18 mesi siamo passati i 7 mesi chiedendo i doppi e i terzi turni di lavoro. Anche qui perché? Perché la Regione Marche non aveva individuato come prioritaria quell'asse viario. Come fai a non individuare come prioritario l'unico collegamento che tu hai verso la capitale, verso Gubbio e verso Perugia, verso la regione vicina nella provincia di Pesaro Urbino? Sono stati sottostimati, diciamo così, gli interessi dei marchigiani che vivono nella provincia di Pesaro Urbino e io non do la colpa alla politica. La colpa è anche nostra. Noi siamo degli elettori, non ci siamo mai accorti che riponevamo la nostra fiducia nelle persone che non coltivavano gli interessi delle nostre comunità e queste sono dimostrazioni lapalissiane della grande superficialità con cui sono stati curati gli interessi della provincia di Pesaro Urbino. Speriamo chiaramente che quello che dice poi trovi dei rimedi e soprattutto ci sia la passione, la voglia anche per far sì che questo in realtà non accada, non accada più. È troppo importante. Dicevamo prima con l'assessore siamo tutti cittadini. Anche se l'assessore riveste un ruolo istituzionale così importante, lui è un cittadino, come tutti gli altri, di cui ha bisogno di quella strada per poter andare a Roma e magari non solo esclusivamente per motivi di lavoro ma semplicemente anche per andare a vedere la mossa del Perugino a Perugia, tanto per dire. Quindi è davvero molto importante quello che dice. Peraltro ha toccato, ha nominato una cosa importante, ha usato la parola ferrovia a un certo punto perché è chiaramente un altro argomento di grande discussione legata sì all'ammodernamento della tratta adriatica che dovrebbe, secondo quelli che sono i piani anche del governo, avvenire nei prossimi anni, ma ci fa vedere come poi il sistema sia così debole. Basti pensare a quello che è successo la settimana scorsa a Firenze con un incidente quasi banale che ha letteralmente spezzato in due l'Italia, assessore. Sì, mi permetta di dire che le infrastrutture, tra virgolette, devono essere ridondanti, ossia dobbiamo avere delle infrastrutture complementari a quelle esistenti che risolvano i problemi. Un banale incidente, fortunatamente senza gravissime conseguenze, ha bloccato l'Italia, non solo il traffico merci, ma ha bloccato anche il traffico passeggeri. Ed ecco il grande problema della linea adriatica, della dorsale adriatica ferroviaria da Bologna a Bari, che attraversa le Marche e arriva a Lecce, che è funzionale, secondo le decisioni del governo nazionale precedente, al traffico merci preferenziali tra il nord e il sud Italia e il sud del nord Italia, collegando sostanzialmente Bologna e quindi da Lille di Meramazioni verso il resto d'Europa, i porti di Taranto e Gioia Tauro, che prevedono l'arrivo di 3 milioni e mezzo di teo, cioè che sono l'unità di misura, dei container che trasporteranno le merci da questi porti verso il resto d'Europa. E allora va affrontato il problema di una ferrovia che non deve essere risolto con dei semplici bypass che bypassano alcune nostre città marchigiane, perché creeremo ulteriori problemi a quelle città. Si parla di 200-300 treni merce al giorno, quindi dei treni che di continuo attraverseranno le nostre città. Abbiamo bisogno di una visione complessiva, anche da realizzare a stralci, perché comprendiamo le difficoltà finanziarie del Governo nazionale, ma che prevedono una nuova linea da Bologna fino a Bari, in modo particolare nel tratto marchigiano, perché abbiamo delle coste, dicevamo prima, fortemente antropizzate, quindi significa i nostri quantieri vivono lungo la ferrovia, le nostre attività ricettive vivono lungo la ferrovia, vanno salvaguardate, quindi dobbiamo costruire una nuova linea arretrata arretrata rispetto alla precedente, e costruire poi per il trasporto passeggeri una grande metropolitana di superficie, che non è impattante da un punto di vista acustico, non è impattante da un punto di vista ambientale, ma ci spingerebbe verso la modernità, la modernità e la contemporaneità delle grandi città europee del mondo. Assolutamente vero. Ospedali pubblici, altro tema di grande importanza che tocca l'assessore Baldelli, perché? Perché lo vive in prima persona, lo vive proprio in prima persona, impegnato anche i giorni scorsi, è stato davvero impegnato sul territorio, per capire e per portare avanti un progetto importantissimo che riguarda per esempio l'ospedale di Pesaro al centro di così tante discussioni. Sì, a novembre dello scorso anno abbiamo iniziato la procedura per raggiungere alla progettazione e alla realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro. Qui vorrei dire dalle battaglie di quando ero ragazzo al liceo scientifico sulla sanità e sui diritti dei nostri cittadini. Dagli anni 70 attendiamo un nuovo ospedale a Pesaro. Un nuovo ospedale non significa avere delle mura nuove attorno al quale far muovere i nostri medici. Un nuovo ospedale significa avere degli spazi performanti secondo i nuovi metodi architetturali, di architettura che viene studiata poi nelle Marche dagli ordini degli architetti e degli ingegneri di tutta Italia vengono a vedere come progettiamo e come realizziamo i nuovi ospedali per dare un servizio anche a Pesaro che aspettiamo da 50 anni. Quindi siamo in ritardo da 50 anni. È servito il Presidente Acquaroli, la nostra giunta, il collega Saltamartini, il sottoscritto come assessore all'edilizia sanitaria e ospedaliera per finalmente vedere questo cantiere a Pesaro che vogliamo, nel rispetto delle date che ci siamo dati, l'azienda sanitaria ci ha detto che libererà gli spazi che ci servono per l'edificazione del nuovo ospedale di Pesaro in località Muraia entro settembre 2024. Noi vogliamo vedere iniziare le reti del cantiere entro quella data e proprio la settimana scorsa abbiamo concluso quella procedura iniziata a novembre per definire il layout progettuale, cioè ciò che andrà a gara per la realizzazione nel nuovo ospedale di Pesaro definendo il restyling anche dei servizi di questo ospedale che manterrà ciò che ha e verrà potenziato nella qualità. Poi molto spesso si dice beh, il grande ospedale fa le grandi prestazioni. Non è vero. L'ospedale costruito con intelligenza e a volte anche con buonsenso, ben compartimentato, ascoltando gli operatori che vivono all'interno di quella struttura e che ci erogano noi cittadini quei servizi di cui potremmo aver bisogno è rispetto a quell'ascolto e costruendo una nuova struttura che parte da quell'ascolto che noi daremo finalmente un nuovo servizio, un ospedale performante a Pesaro, alla nostra provincia e Pesaro sarà un po' il punto di riferimento anche insieme al presidio di Efano, quello di Urbino, quello di Pergola e gli altri servizi sul territorio dei cittadini della nostra provincia. Vogliamo fare qualche cosa di più, intercettare anche quella mobilità passiva di molti cittadini di Pesaro e della nostra provincia che non trovando servizi in questo territorio si rivolgono alle regioni limitrofe. Sono risorse che noi trasferiamo arricchendo la sanità di altre regioni, nulla a questo, siamo in Italia, ma noi prima di tutto ci dobbiamo porre il problema di dare un rimedio alla mancata visione anche in sanità del passato e frenare questa mobilità passiva perché il cittadino della provincia di Pesaro e Urbino deve trovare nella nostra regione e nella nostra provincia le risposte al proprio bisogno di salute o al bisogno di salute delle nostre comunità. Giustissimo Assessore, verissimo, ne siamo profondamente convinti. Gli argomenti sarebbero talmente tanti, avevo segnato Fano Grosseto, magari ne riparliamo più avanti quando sarà riparata fino in fondo la contessa e quindi allora davvero si potrà fare un discorso più approfondito. Su questo le dico che tra qualche settimana, non tra tanti mesi, abbiamo atteso decenni, ripartiranno i lavori sulla Fano Grosseto e questo è importante perché siamo arrivati all'approvazione dei progetti. Dopo i progetti ci devono essere le attività di ANAS e governative non solo per il finanziamento, una parte del finanziamento l'abbiamo, ma per finalmente l'attivazione dei cantieri. Questo significa che con la volontà e la determinazione gli obiettivi si raggiungono, anche se le sfide sono grandi, passo dopo passo, progressivamente le dobbiamo affrontare tutte perché questa comunità, la comunità pesarese, la comunità regionale se rimane unita ha questa forza di poter imporre i suoi problemi per risolvere anche i problemi del centro Italia. Siamo una regione di collegamento fra il sud e il nord della nostra nazione, ma anche tra il mare Adriatico e il mare Terreno e dobbiamo far valere questo nostro peso. Infatti non siamo un'isola anche, se la cosa che ha detto prima ce lo potrebbe far pensare. Oltretutto siamo una regione che ha grandi sportivi, che sta dando grande soddisfazione allo sport italiano, abbiamo avuto il CT della Nazionale Campione d'Europa che è stata testimonial della regione, adesso il testimonial è Tamberi, il saltatore in alto campione olimpionico, oltretutto sappiamo Baldelli che lei è un grandissimo appassionato di sport, in realtà segue lo sport locale, segue lo sport nazionale perché proprio le piace, lo praticava da giovane, non si può dire che non sia ancora giovane, però magari adesso c'ha meno tempo, quindi davvero anche questo è un riferimento importante che ci fa capire l'uomo Francesco Baldelli. Come si fa a non tifare la carpegna prosciutto, la nostra VL? È chiaro, viviamo un momento un po' di difficoltà in questo periodo, ma dobbiamo stringere i denti, come non si fa a tifare i nostri campioni marchigiani, i nostri campioni di calcetto, i nostri campioni della lube macerata, il nostro Tamberi, i nostri ginnasti marchigiani? Devo dire che portano grande lustro alla nostra regione e ci danno anche quella spinta da un punto di vista turistico perché alcuni di loro diventano testimonial della nostra regione e diventa la nostra regione sempre più attrattiva anche grazie a questi campioni. Comunque, come dicevamo, stringiamo i denti e cerchiamo di arrivare alla finale. l'ultima cosa sta girando in questi giorni un bellissimo video di promozione della regione Marche, la protagonista si chiama Bella, non so, l'avrà visto di sicuro, è davvero una bellissima cosa che ci fa essere ancora più orgogliosi di essere marchigiani. Sì, siamo orgogliosi di essere marchigiani perché il buon Dio ci ha dato una terra bellissima. Pensiamo alla nostra provincia, ma un po' tutta la nostra regione, lo dico spesso, in 40 chilometri di ampiezza questa regione ha delle montagne bellissime dove si può fare attività a 360 gradi durante tutto l'anno, si scende verso la nostra costa e le nostre bellissime spiagge con una dorsale collinare ricca di prelibatezze enogastronomiche ma anche di eccellenze da un punto di vista architettonico, storico, culturali, i nostri borghi, pensiamo a Mondavio, pensiamo ai Brugge, Zitorati di Pergola, pensiamo al Torrione di Cagli, pensiamo se andiamo poco più in là del confine della nostra provincia, alle grotte di Frasassi, a Corinaldo, pensiamo alla Roma sotterranea di Fano, pensiamo alle grandi opportunità anche culturali che ci da Pesaro, capitale della cultura 2024. Insomma, abbiamo tante ricchezze di cui essere orgogliosi in cui quello spot di cui lei mi parlava con Bella ne esprime le essenze, l'essenza di questa bellezza che viene sempre più percepita e scoperta dai tanti turisti italiani ma anche europei e internazionali. peraltro uno spot promosso dalla regione Marche. Grazie Assessore Francesco Baldelli, è stato davvero molto interessante parlare con lei, ci è aperto un mondo su quella che la nostra regione potrebbe essere e che tutti noi ci auguriamo che sia. Grazie a lei, è stato un piacere essere qui con voi, un saluto a tutti gli amici di Rossini TV. Grazie ancora, appuntamento a mercoledì prossimo, grazie ancora all'Assessore Francesco Baldelli. Grazie a tutti come diamanti in the sky shine right like a diamond Comis, a Pesaro dal 1994, opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto a olio e gas grazie alla competenza del proprio staff. 100 dipendenti con tecnici altamente qualificati. Tramite il proprio sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, Comis implementa continuamente le proprie risorse e le capacità tecnico-professionali per garantire ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzioni lavori di elevata professionalità, sviluppando sistemi innovativi e a basso impatto ambientale nel settore dell'oile e gas. Comis, progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas. per andare a tutto gas. Per andare a tutto gas. Per andare a tutto gas.